C'è erosione costiera molto grave, già c'è l'ingegnere Siviglia che rappresenta l'autorità di Bacino e abbiamo già preso contatti per studiare un finanziamento che riguarda l'erosione in questa zona che è molto grave e che serve veramente a salvaguardare non solo questo complesso ma un po' tutta la parte di Cetraro al sud. Tanta attenzione per l'altro Girono Cosentino, però da Praia e da Tortora non perdonano la chiusura dell'ospedale. Era davvero l'unica soluzione quella di chiudere il presidio? Non è dipesa né da Scopelliti né dalla giunta legionale, è dipesa da un piano di rientro che Loiero all'epoca ha accettato supinamente. Allora di fronte ad una minaccia ingombente del tavolo massicci, Scopelliti, il commissario, è stato costretto a fare questi provvedimenti che erano, secondo me, molti non erano condivisibili, però è stato costretto a farli. Anche lui non voleva fare cose di questo tipo, però è stato costretto perché adesso finalmente a livello romano la sanità calabresa ha acquistato un po' di credibilità e quindi cominciano a derogare i soldi che lo Stato doveva dare alla Calabria.